Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Gravi infortunio sul lavoro a Monteporzio, agricoltore trasportato in eleambulanza al Torrette di Ancona Celebrata a Fanno la commemorazione dei defunti 21.000 euro per l'arbero di Natale in piazza, Fanno scoppia la polemica per il costo giudicato troppo elevato Alma Juventus Fanno travolta a Teramo contro il San Nicolò Fra poco la classifica e le pagelle di Sergio Catalani La più cordiale buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia In apertura di telegiornale vi parliamo di un grave incidente infortunio sul lavoro accaduto questa mattina in via Pozziloco a Monteporzio Una donna di 72 anni è rimasta incastrata con la mano nel meccanismo di una seminatrice manovrata dal marito che era alla guida del suo trattore Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro che hanno liberato la donna E i sanitari del 118 che viste le sue condizioni hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza Che ha trasportato il ferito all'ospedale regionale Torrette di Ancona La donna ha riportato l'amputazione di due dita della mano Oggi 2 novembre la comunità cristiana ha celebrato la ricorrenza della commemorazione dei defunti Questa mattina a Fanno si è svolta una cerimonia ufficiale con deposizione di corone di alloro e una santa messa al cimitero urbano Il commento di questa giornata nel servizio di Simona Zonghetti Il 2 novembre è il giorno in cui viene celebrata la ricorrenza della commemorazione dei defunti E anche il comune di Fanno come ogni anno ha voluto ricordarli con una cerimonia ufficiale Un corteo formato da autorità civili e militari tra cui il sindaco Massimo Seri e il capo di gabinetto della prefettura Donatella Corvatta ha prima depositato una corona dall'oro al monumento alla resistenza in piazzale Malatesta Per poi spostarsi in Viale Buozzi dinanzi al monumento ai caduti E' seguita una santa messa al cimitero urbano ufficiata insieme a padre Lorenzo da don Antonello Nanni della comunità dei frati Cappuccini Che durante l'umelia ha citato una poesia di Ungaretti intitolata Soldati Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie La poesia, scritta in tempo di guerra, vuole esprimere l'incertezza e la precarietà della vita dei soldati al fronte Che potevano morire da un momento all'altro, ha spiegato il sacerdote Esattamente come le foglie in autunno Basta un colpo di vento per farle staccare dai rami Ma quelle foglie continueranno a concimare sia il terreno che l'albero da cui sono cadute Dobbiamo vivere senza aver paura di morire, ha detto, e con un senso di riconoscenza Gli uomini virtuosi inoltre sono menzionati anche nella Bibbia Nella loro discendenza c'è scritto Dimora una preziosa eredità E siamo noi quella discendenza Siamo quei figli ai quali i caduti hanno trasmesso i veri valori della vita Come la libertà, l'amore per la patria e l'impegno per un mondo migliore Giusto ricordare coloro che hanno servito il paese Che sono caduti nelle due guerre E quindi è giusto non dimenticarli Perché se oggi noi viviamo anche questo momento di libertà E grazie anche al sacrificio che queste persone nel servire il loro paese Hanno dato alle comunità, alle generazioni che sono seguite Quindi è un momento di forte radicamento ai nostri valori Ma anche un alto senso civile Quindi è giusto che le istituzioni siano presenti In questo momento di preghiera per chi ha fede Ma anche in senso laico di rispetto Verso chi si è sacrificato per gli altri Continuiamo con la cronaca Un'auto, una station wagon Risultata rubata a Fano il 29 ottobre scorso È stata ritrovata dai carabinieri di Ostra Durante un controllo Ma all'alte dei militari Gli occupanti si sono dati alla fuga All'interno della vettura sono stati ritrovati Un televisore LCD Una caldaia Una lavastoviglie ad incasso Ed altri elettrodomestici Oltre a vari arnesi da scasso La merce, provento di furti in abitazioni Verrà restituita ai proprietari il prima possibile Parliamo del Natale Il Comune, la Proloco e le associazioni di categoria Hanno scelto l'albero di Natale Che sarà posizionato in piazza 20 Settembre a Fano L'artista che lo ha creato è il Palo del Signore Vediamo il servizio Alto 12 metri e largo 6 Del peso di oltre 140 quintali Realizzato in legno Sarà modulare Con pannelli decorativi evocativi E una particolare illuminazione a LED È il nuovo albero di Natale della città di Fano Che svetterà in piazza 20 Settembre Per tutto il periodo natalizio E per i prossimi due anni a venire Il costo complessivo dell'opera è di 45 mila euro E peserà per due terzi sul budget Che il Comune mette a disposizione Per le iniziative del Natale E un terzo deriverà dal contributo Di privati e sponsorizzazioni Il Comune anche quest'anno Mette sul piatto 21 mila euro Per tutte le iniziative legate al Natale Luci, addobbi, mercatini Non solo, quindi l'albero In questo modo, in un periodo non florido Il contributo chiesto ai commercianti Sarà solo di 70 euro Anziché 120 In modo da coinvolgere più esercenti possibile Un appello anche a tutti i commercianti Di cercare di sostenere queste iniziative Di cercare di rendere più bella la città E più attraenti in queste giornate Di festività La luce della fratellanza La luce della solidarietà L'albero del Signore Seri Così si chiama E' stato curato dall'architetto Seri E le decorazioni sono dell'artista Paolo del Signore Già noto alle cronache Per essere l'inventore Dell'ormai oggetto di culto Del carnevale fanese Il prendigetto E' un albero molto grande Circa 12 metri Anche 13 Per una grandezza di 6 metri circa E l'albero rappresenta Un po' La storia La bella favola del Natale Con delle illustrazioni Dei miei disegni Tipici della mia Del mio e della mia opera Però Che rappresenta la città di Fano Vestita a festa Vestita Addobbata a Natale E' un albero che comunque durerà Per parecchi anni Perché è realizzato In un materiale Che può stare all'acqua E quindi è molto controllato Da questo punto di vista La rappresentazione I disegni sono 40 pannelli Che Vengono inseriti In questa struttura E che appunto Con colori vivaci Con queste storie Rappresentano la città di Fano Appunto come dicevo Addobbata a festa L'albero sarà illuminato Completamente Con dei led In modo da creare Un effetto anche notturno Abbastanza Piacevole E così Per dare questa luce Alla città Durante le feste natalizie Il nuovo albero Si inserisce nel progetto Denominato Il Natale che non ti aspetti In collaborazione con l'entroterra Dove L'ufficio del turismo E proloco Lavorano all'unisono Per portare anche a Fano Gruppi turistici Nel periodo natalizio Il costo era sicuramente Importante Quello proposto Ma alla fine Innanzitutto L'intervento Che arriverà Da alcuni sponsor privati Che ne pagano Più di un terzo E quindi già lì Ci hanno sostenuto In modo abbastanza importante Ma ancora Abbiamo ripartito La spesa in tre anni La spesa che non è Soltanto dell'albero Perché l'albero Costerebbe molto meno Ma la spesa Comprende l'albero L'installazione Per il 2016 L'installazione E lo smontaggio Per il 2017 Quindi diciamo Che è un costo Definito per tutti i tre anni In cui questo albero Verrà montato E smontato E posizionato In piazza 20 settembre Quindi direi che ci avviciniamo Molto ai costi Degli alberi Degli altri anni E sul costo Dell'albero Di Natale Scoppiata una polemica Da parte Della Cisle Di Fano Dall'altra parte Il sindaco Seri Si dice Stupito Che le critiche Arrivino proprio Da un sindacato Visto che In questo modo Abbellendo La città E il centro storico Si favorisce L'attività commerciale Della città Arriva il nuovo albero Di Natale E con lui Tante polemiche Come quella Della Cisle Di Fano Che si dice Profondamente sconcertata Per la spesa Di 21.000 euro Che il comune Intende sostenere Mentre tutte le risorse Disponibili Andrebbero utilizzate Per contrastare La povertà E le marginazioni Il sindacato Chiede pertanto Al sindaco Massimo Seri Di utilizzare la somma Per incrementare La spesa sociale Meglio una città Più solidale Dicono Con meno famiglie E persone marginate Che un albero Di Natale In piazza Secca La risposta Del primo cittadino Ogni volta Che si fa Una buona cosa C'è sempre qualcuno Che deve aprire Una polemica Allora Intanto spieghiamo Giustamente Ai cittadini Che devono avere Le idee chiare Non si spendono 21.000 euro Per tutte le attività Del Natale In realtà Poi L'importo complessivo È maggiore Dove ci sono Il contributo Dei privati Dei commercianti Però la quota È quella Che l'amministrazione Mette a disposizione Per le attività Come l'anno scorso È di 20.000 euro È una cifra Molto modesta Rispetto anche Tante altre amministrazioni Ma mi fa specie Che venga fatta Una previa come questa Da un sindacato Che tutela I lavoratori E qui dobbiamo Tutelare anche Chi fa attività Le attività produttive Il commercio In difesa dell'amministrazione Comunale È intervenuta La Confcommercio Secondo il segretario Di zona Francesco Mezzottero La protesta Della CIS È una polemica Politica È precisa Che nel bilancio Di 60.000 euro Previsti per le festività Natalizie Rientrano La festa Dell'Epifania Quella per l'ultimo Dell'anno Gli spettacoli A teatro Il mercatino Di Natale E l'illuminazione Del centro E dei quartieri Ricorda inoltre Che l'albero Di Del Signore È riutilizzabile Perché artificiale Ed è stata abbracciata La filosofia Di una città Che ricicla Che non spreca E che è solidale Il botta risposta Però non è finito qui Perché il responsabile Del sindacato fanese Giovanni Giovanelli Ha replicato Dicendo Che nessuno Vuole essere protagonista Il nostro intervento Precisa È scaturito Da diverse considerazioni Visto al dato Della povertà E dell'emarginazione sociale Dovute alla crisi economica In continuo aumento E al posto Di mettere risorse A disposizione Del fondo anticrisi Ha concluso Il comune Stanza i soldi Per l'albero E le luminarie Vi immaginate Un centro storico Senza un addobbo Senza un'attività Cosa sarebbe? Ed ora torniamo A occuparci Di Banca Marche Ammontano a 15 milioni Di euro I sequestri Eseguiti dal nucleo Di polizia tributaria Della guardia di finanza Di Ancona Nello stralcio Dell'inchiesta Sul buco miliardario Di Banca Marche I sequesti Che comprendono 20 conti correnti Partecipazioni Societarie E diverse Abitazioni a Bologna Parma E Roma Riguardano Oltre a Bianconi E all'imprenditore Vittorio Casale Anche un altro Imprenditore Pugliese La contestazione Per tutti E la corruzione Tra privati Riportato Allo suo Antico splendore Un organo Siamo nella chiesa Di San Giovanni Apostola Marotta E quindi è tornato A suonare L'organo Di Giuseppe Sarti Le sue 520 canne Sono ritornate A emettere Il suono cristallino Di cui sono capaci L'organo Del 1850 Opera Dell'organaro Giuseppe Sarti Situato Nella chiesa Di San Giovanni Apostola Marotta E' stato riportato Al suo antico splendore Con un restauro Approfondito Ad opera Di Riccardo Sabatini Grazie ad un Contributo Della fondazione Carifano E l'utilizzo Dell'8x1000 Lo strumento E' di scuola Bolognese E quindi Si identifica Come tale Per diversi registri Che ha Questi registri Sono composti Da 520 canne La più piccola Intorno ai 3 cm Così E la più alta Invece di legno All'interno Sui 2,40 m Di legno Stagno e piombo Stagno in facciata Sono diversi materiali Che compongono L'organo Ovviamente C'è tutta Anche la meccanica Ligna Però E' uno strumento musicale Quindi tutto quello che c'è Di meccanico E' in funzione Del suono Delle canne Quindi come qualsiasi strumento musicale Fondamentalmente E' il suono Quindi la parte più importante Venerdì 30 ottobre Le sue note Sono riecheggiate Nella chiesa Dopo anni di silenzio In un concerto inaugurale Ad opera Del maestro Filippo Sorcinelli Che ha eseguito Brani di Galuppi Pasquini E Bacca La prima funzione dell'organo Non è soltanto L'esecuzione sterile Della letteratura musicale Quanto invece L'animazione Che sta più a cuore Nelle parrocchie Nelle chiese L'animazione Nella liturgia Ecco il suono Che emana Questo strumento E' un bel suono Il suono E' meraviglioso E' cristallino Contribuisce anche molto A questa struttura Meravigliosa Che è stata costruita Perciò Tutto contribuisce Certamente Ma anche il periodo Storico dell'organo Con i suoi registri Scintillanti Certamente E' una cosa Che caratterizza Certamente Questo strumento Ed ora parliamo Di sanità Perché domani 3 novembre L'area donatori Torna nella sua Sede originaria Siamo al piano terra Del padiglione C Dentro la medicina Trasfusionale Dell'ospedale Santa Croce Di Fano L'area è stata Ristrutturata E adeguata Alle normative Vigenti Di accreditamento L'attività sanitaria Resterà Inalterata E gli utenti Della medicina Trasfusionale Troveranno Nuovi locali Più accoglienti E luminosi Ed ora Vi facciamo vedere Questo filmato Che riguarda La rocca Malatestiana Di Fano Un'immagine Che ci aveva Inviato Un nostro Telespettatore Durante il programma Di Fano TV Primo Cittadino Lamentava appunto L'erbace Che nascevano In colte Sul monumento Ed ora A fianco Alle immagini Del nostro Telespettatore Vi facciamo vedere Invece quelle Che abbiamo girato Questa mattina E come potete vedere Il comune È intervenuto Con un'operazione Di pulizia Riportando La rocca Al suo antico Splendore Ebbene È veramente bello Vedere le mura Della rocca Ripulite Così che restituiscono Tutta la maestosità Di questo monumento Così importante Per Fano Apriamo la pagina Dello sport Nella giornata Di ieri Domenica Domenica Primo novembre Due fanesi Marco Savelli E Roberto Polverari Hanno portato A termine La quaranticinquesima edizione Della maratona Di New York Gli atleti Della Fano Corre Hanno tagliato Il traguardo Del Central Park Indossando Una maglietta Tappezzata Di sponsor Che hanno voluto Sostenere La causa Del bimbo fanese Di cinque anni Affetto dal morbo Di crabbe Per la quale In Italia Al momento Non esistono cure Nella parte posteriore Della maglietta Invece c'era la scritta Per favore Presidente Obama Ci restituisca Il nostro lisipo Il capolavoro Chiamato Atleta Vittorioso Che ora è in possesso Del Getty Museum Di Malibu In California E che è al centro Di una contesa Con lo Stato italiano E adesso passiamo Al calcio La serie D Perché ieri A Teramo L'Alma Juventus Fano Ha perso per 5 a 1 Contro il San Nicolò Ed ora guardiamo Gli highlights Della partita Allo stadio Gaetano Bonolis Località Piano Daccio In Teramo Si affrontano La seconda Il San Nicolò E la terza L'Alma Juventus Fano Alla ricerca Di un sogno Alla ricerca Dell'aggancio Alla capolista Samba Impegnata Nella gara interna Alla riviera Con il Giulianova Buon pomeriggio Buon pomeriggio Da Sergio Catalani Donatangelo Che viene via Marconi C'è il San Nicolò Che si distende Il gol C'è il gol Del San Nicolò Che va in vantaggio Con la stoccata Al sesto minuto Al sesto minuto Mozzoni Verso Casolla Che mette nel mezzo C'è Margherita Attenzione C'è il gol Ancora San Nicolò Che va sul 2 a 0 Con Massetti Marconi Chiacchiarelli Chiacchiarelli E tutta la panchina Che va ad esultare Ultima azione Margarita Prova a segnare Il sesto gol Vediamo Margarita Il tiro alla barriera Ci mette una pezza Basta così Dice Il mediocre Gualtieri di Astri Finisce con una manita 5 a 1 Per il San Nicolò E in studio Per un breve commento Alla partita Per risultati Classifiche E pagelle Abbiamo Sergio Catalani Allora Sergio Che cosa è successo A Teramo L'Alma Juventus Fano 3 su 4 partite Sono sconfitte Come mai? Sì Buonasera a te Lino E buonasera A tutti i telespettatori Una vera debacle Quella che è Piombata Sull'Alma Juventus Juventus Fano 5 a 1 Per il San Nicolò Una formazione Che insieme al Chieti Insieme alla Samba Reciterà sicuramente Un ruolo da protagonista Ma davvero Troppo È successo ieri A Piano Daccio Allo stadio Bonolis Di Teramo L'Alma praticamente Dopo un quarto Dove la già perdeva Per due reti A zero Praticamente facciamo Prima a dire Che l'Alma Non è scesa in campo O quasi Anche se comunque Ci sono delle recriminazioni Come poi vedremo Nella Moviola Con un paio di episodi Dubbi Che hanno fatto Lamentare Il clan Granata Da notare Al rientro Da Teramo Come tutti ben Sapranno Ieri I Panthers Non sono potuti Andare a Teramo Per divieto E hanno aspettato La squadra Per un colloquio Per un dialogo Molto civile E molto produttivo I giocatori La squadra più forte Del campionato E quindi sicuramente Già fin da domenica Prossima Con la Fermana Le sorti Almeno questo Lo speriamo Cambieranno Per la truppa Di Alessandrini Bene Allora Classifiche Risultati E poi Le pagelle Risultati Della decima giornata Di andata Del campionato Nazionale Direttanti Serie D Girone F San Nicolò Batte Alma Juventus Fano 5 a 1 Ad Agnone Amiternina Batte Agnonese 2 a 0 Avezzano Evispesaro 1 a 1 Castelfidardo Batte Campobasso 1 a 0 A Chieti Matelica Batte Chieti 2 a 0 Fermana Batte Monticelli 2 a 1 Iesina Batte Isernia 1 a 0 A Porto Recanati Campo Neutro Folgore Veregra Batte Recanatese 2 a 0 San Benedettese Giulianova 2 a 0 Per una classifica Che vede la Samba Di Mister Palladini In testa Ha 22 punti Lepre Solitaria Seguite dal San Nicolò Ha 21 Il Matelica Ha 19 L'Alma Juve Fano Ha 17 Quarta forza Quindi l'Avezzano E la Folgore Veregra A 15 punti Il Chieti Il Monticelli E il Castelfidardo A 14 La Fermana Il Campobasso A 13 La Isina Elisernia A 12 La Recanatese A 11 Amiternina 10 Vispesano 9 Agnonese 8 Chiude la classifica Il Fannino di Cosa Giulianova Il prossimo turno Come detto Alma Juventus Fano Attesa Dalla Difficile Partita Al Mancini Contro la fermana Dei tanti ex E del ex Indimenticato Osvaldo Iaconi E ora Le pagelle Di San Nicolò Alma Juventus Fano Le pagelle dell'Alma Naturalmente Ginestra 5 Marconi 4 Bartolini 4 E mezzo Lunardini 4 Modari 4 Mei 5 Sivilla 4 Favo 4 E mezzo Gucci 5 Chiacchiarelli 5 Lucciarini 5 E mezzo Sono entrati nel secondo tempo Sassaroli Non giudicato Buongiorno 5 Verruschi 6 Alessandrini Allenatore 4 Allora Queste erano le pagelle Naturalmente Come era immaginabile Voti bassi E allora Guardiamo qualche episodio saliente Alla Moviola Di questa partita Sì Rino Ecco Diciamo c'è un paio Due o tre episodi Nel primo tempo Il cross di Chiacchiarelli Dalla destra Protesta granata Per un presunto Mani di Pretara Numero 2 Del San Nicolò Il Sivilla Che tenta il colpo di testa Ma c'è evidente Il tocco Con un braccio Le immagini non sono chiare Ma sembra comunque esserci Il calcio di rigore per il Fano E l'annessa espulsione Perché Sivilla colpisce di testa E qui c'è un movimento Piuttosto strano Il pallone resta lì E non subisce la traiettoria Che subirebbe normalmente Se il giocatore biancazzurro Avesse colpito di testa Quindi possiamo dirlo Diciamo a chiare lettere Il rigore per l'arma ci sta E l'annessa espulsione Per il numero 2 Under Classico 96 Pretara Sera sul 2-0 E l'Alma Poteva sicuramente Riaprire la partita Sera Ancora Nel Primo Tempo Quindi un episodio Che naturalmente Ha un po' fatto Arrabbiare Mister Alessandrini Anche In serie di intervista Qua c'era il rigore Per la compagine Di Mister Alessandrini Andiamo avanti Con le immagini Qui c'è il gol di Gucci Il tocco di Chiacchiarelli Verso Gucci Che è in posizione regolare Il tiro di Gucci Il gol Il settimo gol Granata Del ariete di Bagno A Ripoli In cronaca diretta Avevamo Affermato Che il giocatore Toscano Potesse essere Al di là Dei giocatori biancazzurri In realtà C'è proprio questo Giocatore qua Che è il centrale Difensivo Rapino Che tiene in gioco Gucci Quindi il gol È più che regolare E quindi Ci scusiamo Se in cronaca Avevamo detto Che il gol Potesse essere Nato da posizione Irregolare Il gol è regolarissimo E quindi L'Alma Si porta sul 4-1 Con il settimo gol Vedete il tocco Di Chiacchiarelli Gucci È tenuto in gioco Da Rapino Andiamo avanti Con la topica Di Gualtieri di Asti Non l'unica Nel finale di gara Chiacchiarelli Punta Mozzoni Dribbling Lo sgambetto Netto È vero che Il fallo Avviene fuori aria Ma il calcio di posizione Ci sta Il direttore di gara Arriva di gran carriera Da tutta la posizione E va a munire Chiacchiarelli Che naturalmente È incredulo Forse Sustenazione della guardaline Con Chiacchiarelli Che come vedete Non se ne è capaci Il direttore di gara Che lo vedete Si trova proprio Dalla parte opposta E quindi non capiamo Che cosa Avesse potuto vedere Qua c'è proprio Lo sgambetto Netto Di Mozzoni Tra l'altro Il migliore in campo Su Chiacchiarelli Che va giù Fuori aria Tutta la vita Però Caccio di punizione Altrettanto netto Che cosa Ti combina La gualtiere di asti Ammonisce Chiacchiarelli Quindi Un'altra topica Del direttore di gara Il Fano gioca Una partita pessima E merita ampiamente Il 5 a 1 Come i voti Ne testimoniano Ma il Fano Ancora una volta Ha ben donde Di reclamare Un atteggiamento A dir poco Strano Nei confronti Del presidente Gabellini Che a questo punto Farebbe bene anche A lamentarsi Nelle serie competenti Perché qui Si sta subendo Un po' troppi torti Bene Grazie Sergio Per questo tuo commento E adesso vi ricordo Come sempre Che a seguire il telegiornale Potrete vedere Per integrare Tutta la partita Dell'Alma Juventus Fano Prima di lasciarvi Vi ricordo anche Che mercoledì Torna l'appuntamento Con Primo Cittadino Sarà ospite Dei nostri studi Il sindaco di Saltara Claudio Uguccioni E quindi Mercoledì Alle 20.45 Primo Cittadino Per intervenire In diretta Il numero È sempre lo stesso Lo 0721861433 Oppure per mandare domande O quesiti al sindaco Potete utilizzare L'SMS O il Whatsapp Al 338 4968250 E questo è tutto Per questa sera Grazie per essere stati In nostra compagnia Naturalmente Occhio alla notizia Tornerà domani sera Puntuale Alle 20.30 Grazie Buona partita E buon proseguimento Di serata Di serata Occhio a giocare Occhio a giocare Occhio a giocare